Salve, mi chiamo Luca Machiavelli, sono un artista digitale e ho dei problemi a parlare perché dopo l'infarto ho abbastanza difficoltà a esprimermi. Comunque ho vissuto la maggior parte della mia vita tra l'India e gli Stati Uniti dove avevo fatto fortuna con questa tipologia d'arte. Il mio privilegio è quello di aver capito che ho trovato una sorta di trasversalità anarchica nel lavoro e ho sposato l'arte con l'utopia. Ho avuto un'intuizione che è libertà e partecipazione, mentre oggi io ritengo che siamo spettatori sia della politica, della cronaca e degli orori di questo mondo che io chiamo infetto. O peggio ancora, molti sono tifosi che per definizione non ragionano. Comunque io mi sforzo di uscire dai canali tradizionali con manipolazioni ed esercizi pittorici e anche a livello musicale con una ricerca sul suono partendo dal rumore noise, dallo zero praticamente. Manipolo suono immagini, ma è un esercizio che era già conosciuto da daisti e da barrocks a partire dagli anni sessanta. Mi aiuta la filosofia, la musica e la tecnica pregevole che ho preso in trent'anni di lavoro sui computer, ma cerco sempre di comunicare qualche cosa attraverso le mie opere, messaggi di rendere piacevole la visione dei miei lavori. Vi auguro una buona visione e grazie mille.